amici di faner buonasera dal circolo sport city si affrontano per la pre-season della lega calcio a 5 xxx in maglia bianca banda giallonera e a sinistra dei vostri monitor invece in maglia blu la golbet castelli leva l'appoggio per rossi ancora rossi al limite dell'aria calcio con il sinistro sfera che resta lì tra le braccia di tornea agrillo contro proietti è uno contro uno però va a saltare agrillo se ne va è uno contro uno agrillo il pallone sul secondo palo e arriva il gol della golbet castelli leva con aurelio cerboni nel miglior momento dell'xxx sono gli avversari a portarsi in vantaggio mattia colombiano il pallone non è uscito per seguire il diretto della lega allora siamo due contro uno il pallone allargato sulla sinistra riesce a scorrere per agrillo che mette giù il portiere e la mette in rete 2 a 0 golbet castelli leva il gol questa volta del numero 9 mario grillo rossi sempre altezza di centrocampo supera un avversario il sinistro questa volta c'entra lo specchio della porta il numero 8 il migliore dei suoi è 2 a 1 a grillo partito leone dalla parte opposta grillo va con il destro forse è arrivata la deviazione di colombiano calcio d'angolo tirare rossi lo insegue qui l'avversario che gli sradica il pallone allora grillo con il destro colombiano in calcio d'angolo sradica il pallone l'altro numero 9 allora rossi per colombiano con il sinistro ancora colombiano la deviazione di tornea provvidenziale allora penna con il sinistro tornea la toglie da sotto la traversa si resta sul 2 a 1 calcio d'angolo il sinistro dentro per bellutti è 3 contro 1 riesce a riposizionarsi la formazione svantaggia la conclusione con il destro il pallone entra alle spalle di colombiano è 3 a 1 colbet castell di leva a 3 dal termine tornea il pallone sbatte sul palo c'è l'angolo battuto sul secondo palo esce tornea poi amanza insieme a lui a grillo lancia cirulli ancora cirulli salta colombiano la spera resta per cirulli poker della colbet castell di leva 4 a 1 su questa rete si chiude anche la gara colbet quindi che vince 4 a 1 sull xxx per questa pre season della lega calcio a 5